Questo è sempre successo. Quello che succede nel mercato estero quando uno ha venduto il film e ha ceduto, non si sa. Lì alla bestia sangue freddo, come anche ad altri film, sono stati aggiunti o tagliati a secondo che tipo di nazione fosse. Quella fobica per il sesso si tagliavano le scene di sesso, quella fobica per la violenza si tagliavano le scene di violenza o si aggiungevano, perché spesso è successo anche questo, che le scene soprattutto di sesso ovviamente sono state aggiunte in maniera come dire appiccicaticcia e allungate. Quindi succede questo. Poi è chiaro che naturalmente per la Svezia è violento Walt Disney, si sa. Per gli altri stati naturalmente il sesso disturba molto di più della violenza. Come protagonista era Klaus Kinski, che era una personalità molto complessa. Tu ricordi Kinski bene o l'esperienza con me? L'esperienza con Kinski è stato un idillio. Non è mai successo con un attore come quello che è successo con Klaus, siamo stati proprio d'amore e d'accordo. E devo dire un'altra cosa. Lui prese poco, pochi soldi, sia lui che Margaret Lee, per questo film qua. E devo dire che prima di andar via, perché girò con me una settimana, diede 100.000 lire di mancia alla troupe, che era molto per quell'epoca là. Quindi tutte le pazzie e le cose per Kinski nel mio film non successe niente. Ma devo dire che sono stato io a suggerire a Leone di prendere Kinski per la parte del Goboin, per qualche dollaro in più. E sono stato io a suggerire di prendere a Capitani a Kinski in un western che si chiamava Ognuno per sé. Non so se lui lo sapesse questo o non lo sapesse, né io gliel'ho ricordato ovviamente. Però è una faccia che mi è sempre stata, come dire, drammaticamente cara e appena ho potuto. Io l'ho segnalato in Italia e l'ho usato io, ripeto, sempre facendo naturalmente il gioco di far credere che potesse essere lui l'assassino, perché con quella faccia e quella fama che aveva, pensavo che il pubblico, insomma, per qualche verso potesse abboccare. Nella bestia che uccide sangue freddo ha un grande atmosfera di claustrofobia nell'ospedale per le schizofreniche. Perché tu hai questa situazione, questa locazione? Io ti ringrazio per quello che dici, cioè che c'è questa atmosfera di claustrofobia e cosa. Io naturalmente, ho detto prima di cominciare l'intervista, che io il film non lo amo molto. Quindi ogni cosa che porta ad elogiarlo più di quando io non lo valuti, mi fa piacere ovviamente perché si tratta di un mio film, ma per qualche verso non lo condivido. Comunque l'atmosfera doveva essere necessariamente così, perché se c'era una clinica dove doveva essere ammazzata dalla gente, è chiaro che l'atmosfera più consona a che il film filasse meglio era di tipo proprio di claustrofobia. Finalmente, oggi questo film ha un gran following, è un film stra-culto negli paesani stranieri, per esempio in America, in Inghilterra e nel Giappone. Che sono i tuoi pensieri sul film oggi? Io sono contentissimo quando sento queste cose, perché ripeto, molte volte all'autore può anche sfuggire il valore di quello che ha fatto. Questo parlo a grande livello, naturalmente. Quindi quando sento che è un film che piace in America, piace in Inghilterra, piace in Giappone, ripeto, a me fa soltanto piacere. Se devo dire che quando girai e dopo avessi pensato o fatto un film che tra qualche anno avrà un suo valore, perché come dire, i termini cinematografici di valore di affezione cambiano ogni dieci anni. Grazie. Grazie.